Ma non ce la faccio più, perché non me ne posso vedere la proprietà, che io ho giocato lo sacro per me la buscare, non ti credi che me l'hanno dato da parte. Fu costretta a lasciare la sua casa, dichiarata inagibile trasferirsi altrove, dopo essere stata evacuata dai vigili del fuoco. A distanza di tre mesi poi ritornò imperterrita in quel vallone di contrada cervo a Dariano Erpino. Giuseppina De Rosa, 85 anni, scappò dall'abitazione di sua figlia, rinunciando ad ogni comodità per trovare posto in una catapecchia, senza neppure un letto e servizi igienici, con la speranza di ricevere un aiuto dalle istituzioni. Ma fino ad oggi non si è mosso nulla, anzi la situazione si è ulteriormente aggravata. Anna Lo Sanno, figlia dell'anziana donna, è disperata. Siamo stati più di una volta al comune, ma nulla. Il commissario prefettizio non ha mai ricevuto mia madre. Si porteranno sulla coscienza tutti questa donna che morirà di dolore. Anche l'alto calore è stato sollecitato per una perdita notevole che sta portando via tutto, persino i capannoni. Un disastro, ma la cosa più brutta e triste è vedere una povera donna piangere per non aver ricevuto una risposta da nessuno. Una vicenda incredibile, già denunciata da anni ma senza alcuna risposta. Una storia commovente che le istituzioni continuano ad ignorare. Anna Lo Sanno si rivolge in ginocchio al commissario Elvira Nuzzolo. Diamole una speranza, anche minima, per poter vivere con serenità.